ciao a tutti benvenuti sono tiziano come vi ricorderete e oggi presento il medley numero uno dell'album alive in questo caso il primo pezzo del medley che si chiama refimno allora innanzitutto che cos'è un medley ripeto un medley è il riassunto di diversi brani in questo caso i brani sono tre il primo è refimno il secondo è bollos il terzo è letizia oggi parliamo di refimno allora refimno è una città qui a creta dove sono andato a fare un concerto insieme al mio percussionista avangelis calaitis che cosa è successo è successo che esattamente il giorno prima delle prove mi è venuta un'idea in genere nei concerti iniziano sempre con un'improvvisazione quasi dal nulla mi piace salire sul palco e non avere la tensione di dover suonare i pezzi nota per nota precisi e allora ho notato che è più facile per entrare nello spirito del concerto per creare l'atmosfera per me principalmente per essere più tranquillo iniziare con un'improvvisazione quindi suono in modo libero il giorno prima del concerto però mi viene in mente appunto quest'idea qui perché era era tanto tempo che volevo lavorare sul sui ritmi centroamericani samba bossa nova queste cose qui allora ho chiesto a evangelis di di suonare un ritmo per improvvisare qualcosa per il giorno dopo no e appunto mi è venuta in mente questa cosa qui insieme a questo tema se dovessi proprio suonarlo con un ritmo centro africa centro americano sarebbe così ricorda qualcosa infatti poi il tema dell'improvvisazione è questo e e e e eccetera eccetera il pezzo è molto improvvisato quindi anche adesso faccio pratica a ricordarlo però sommariamente il pezzo è questo allora eh vediamo un po' eh la storia di questo brano quindi è che eh ho fatto questo concerto c'era questa improvvisazione all'inizio del concerto e senza tante prove abbiamo fatto eh questo pezzo qua eh spero ovviamente vi vi piaccia eh c'è una cosa romantica che è la seguente eh in pratica eh eh Rethimno è una città di Creta abbiamo detto e c'è un'altra città di Cipro che si chiama Paphos alla quale ho dedicato un brano eh che sì vi ho già mandato allora la cosa romantica qual'è che dopo aver suonato a Paphos e in seguito suonato a Rethimno ehm rileggo un pezzo dell'Eneide e scopro che Enea l'eroe troiano fondatore di Roma eh nel suo viaggio da Troia verso l'Italia è passato proprio da Paphos e dalla zona eh il mito dice la poesia dice eh dalla zona di Creta che oggi noi chiamiamo Rethimno che è una città veneziana ehm si dice nel poema stesso che lui abbia fondato una città e quindi così romanticamente ho pensato di 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 aver ripercorso una parte del suo del suo viaggio eh verso la fondazione di Roma un giorno chissà magari suonerò anche a Roma invitatemi vengo quindi la zona più o meno è questa qui quindi vi ricordo questo era ehm Rethimno il primo pezzo del Medli numero uno che vi ho spedito per posta elettronica qualche tempo fa se non l'avete ricevuto fatemelo sapere se vedete questo video per la prima volta scrivetemi andate sul sul mio sito e inviero gratis questo brano ed altri ed altri brani anche vi ricordo per chi volesse acquistare l'album che è disponibile sul mio eh sito ciao a tutti 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 ciao a tutti